Adesso vi faccio presentare, diciamo, mio fratello che è la vera vittima della serie, Luca Angelese, poi abbiamo mia figlia, Martina Lampugnano, più carina da madre, ma che andava bene lo stesso, poi abbiamo un antagonista che c'è prova, ma chi è? Non la farà. Fatto centro sperimentale, quindi abbiamo belle e brave attrici che lavorano con noi e il fidanzato di mio fratello è un attore che io spesso ritrovo nei miei film e che io amo, Davide Sebastica. Anche lui è un centro sperimentale, perché tutti i bravi che vengono dal teatro, levato la grima alta, che va bene, lei è un caso, diciamo, però ci siamo affezionati, l'ho andata con quattro i provini e quindi l'ho presa. E Sergio che già, insomma, ci ha visto in coppia, si è già andato. Ecco. È massimo, insomma, ci hai fatto delle cose insieme, ma il tempo fa, perché il film che mi ha accettato prima, tutta la vita, davanti, mi ammazzava col posacendere, se ve lo ricordate. Eh sì. Era, no, è giusto. Il mio Massimo Chini, ve l'abbiamo fatto tante cose, diciamo, il gatto e la volpe, su questa fiction, su questo film, ecco, altre puntate. Grazie. Questo è quanto.